Lei ha da ragione, poi chiedo a Peter, da ragione a Bassetti che dice insomma questi report quotidiani fatti dai giornali, dai telegiornali eccetera, che pongono sempre il numero di malati, contagiati eccetera creano una serie di inutile ansia e dice togliamoli. Ha ragione Bassetti? Senta guardi, quando lei va in autostrada per capire se va veloce, guarda l'indicatore di velocità per capire se sta in una situazione di pericolo o meno la stessa cosa è per la pandemia, uno degli indicatori del cruscotto della pandemia è il numero dei casi, quindi l'incidenza, l'RT e il numero delle persone che vanno in ospedale e in rianimazione sono un effetto collaterale della diffusione del virus e questo è il problema, guardi, io penso che mi permetta da analfabeti di epidemiologia queste dichiarazioni Analfabeta di epidemiologia? Analfabeta diях